Musica Bene trovati nel salotto di Caffè di Traverso, andiamo subito a conoscere chi è l'ospite che oggi si intratterrà con noi. Diamo il benvenuto a Luigi Agresti, referente nazionale del WWF. Dottora Agresti grazie per aver accettato il nostro invito e noi ci introduciamo all'argomento che vogliamo trattare con lei grazie all'ausilio di un contributo realizzato dalla redazione della nuova TG. Non smette di regalare colpi di scena all'udienza preliminare del processo relativa allo sversamento di greggio da almeno uno dei serbatoi di stoccaggio del Cova di Vigiano, venuto alla luce nel febbraio 2017, stimato da Lenin circa 400 tonnellate. Dopo la modifica al capo di imputazione nei confronti degli ex responsabili dell'impianto petrolifero Ruggero Geller ed Andrea Palma, ai quali il PM Montemurro ha deciso di contestare il disastro ambientale in luogo del vecchio disastro innominato, ieri mattina è stato sottoposto all'attenzione delle parti in causa e del GUP a Modeo una nota dell'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale della Regione Basilicata risalente alle scorse settimane. A depositarlo è stato l'avvocato Gervasio Cicoria, difensore di uno dei componenti del CTR, il Comitato Tecnico Regionale, accusati di aver prima imposto alla compagnia petrolifera la realizzazione dei doppi fondi e serbatoi di stoccaggio per poi non vigilare sul rispetto delle prescrizioni. Nota dalla quale si evincerebbe la presenza di sorgenti primarie di contaminazione ancora attive che sembrano di impedimento al procedimento di attività di recupero del greggio sversato ancora in corso. Il GUP ha rinviato ogni decisione sul documento all'esito della discussione, evidenziando però che lo stesso non appare di immediata coincidenza temporale con i fatti contestati. Il difensore di Geller, l'avvocato Giuseppe Fornari, in riferimento alla nota della Regione, ha evidenziato come non esistano nuove contaminazioni ma soltanto quelle che risalgono al 2017-2018. Si tratterebbe in sostanza dell'eccedenza di liquido che non può essere recuperata direttamente e necessitante di bonifica. L'udienza preliminare del processo ripartirà il 13 dicembre. Sia il Comune di Vigiano che la Regione Basilicata nelle scorse udienze avevano formalizzato la richiesta di costituzione di parte civile che è stata accolta dal GUP come quella di Legambiente. E oltre a Legambiente sappiamo che anche WWF Italia e WWF Potenza si sono costituiti parte civile e il GUP ha ammesso la vostra costituzione insieme poi a quella di Legambiente. Voi come giudicate questo accoglimento positivo da parte del giudice per l'udienza preliminare? Beh innanzitutto ricambio il ringraziamento insomma ecco sono molto contento di essere qui perché ogni occasione per parlare della questione petrolio in Basilicata per me e per il WWF insomma è importante. Questo è l'ultimo capitolo, non sarà per ora, non sarà sicuramente l'ultimo. Come lo giudichiamo? Sicuramente lo giudichiamo in maniera positiva, siamo molto molto soddisfatti di questo. E riteniamo che sia un riconoscimento anche dell'attività che come WWF svolgiamo da più di vent'anni ecco come presidio su questa questione. Io adesso lavoro per il WWF Italia ma per più di vent'anni sono stato segretario regionale del WWF in Basilicata. Quindi conosce molto bene quello che è il contesto regionale. Quindi ho seguito la vicenda petrolifera dal sorgere e le dico nel 2000, nel 2000 stiamo parlando quindi di già 22 anni fa, noi uscimmo già con un documento che poi per anni ci è stato chiesto ed è stato citato. La Val d'Agri tra parco e petrolio in cui delineavamo lo scenario che si prospettava davanti a noi, lo scenario del petrolio che noi insomma contrapponevamo allo scenario invece che poteva svilupparsi, potrebbe ancora svilupparsi invece da un parco ben gestito. E devo dire che buona parte delle cose contenute in questo dossier sono ancora attuali, i pericoli di incidenti che avevamo prospettato, il depauparamento del territorio, i rischi di danni ambientali, tutte cose che avevamo già purtroppo previsto e non era nemmeno difficile prevederlo nel 2000. E perché si è arrivati a tutto questo? Nonostante voi insomma avete vigilato sin dall'inizio dell'attività estrattiva diciamo in Basilicata e siamo arrivati in un contesto che è grave e che vede la Basilicata totalmente inquinata almeno nella parte della Val d'Agri, lì dove ci troviamo di fronte ad uno sversamento di 400 tonnellate di greggio che è stato completamente riversato nel territorio dove insiste il giacimento petrolifero dell'Eni. Non avete vigilato abbastanza? Non siete riusciti ad imporvi su questa grande multinazionale? Diciamo che insomma noi abbiamo, le garantisco, abbiamo vigilato. Io sono, ripeto, autore personalmente, in collaborazione con tanti altri amici del VUF e delle altre associazioni, di tanti proprio esposti denunce che abbiamo fatto. Ricordo qualche anno fa presentammo un documento alla Procura che poi sono stati atti che hanno dato poi anche l'avvio a questi procedimenti giudiziari in cui riepilogavamo tutti gli incidenti accorsi dalla fine degli anni 90, dall'inizio degli anni 2000, a cominciare dagli sversamenti delle autobotti, penso che qualcuno si ricorderà sicuramente quando ancora non funzionava l'elodotto, non dico quotidianamente, ma tanti incidenti di autobotti, perché poi su queste stradine nostre interne non era facile guidarli, sversamenti di autobotti di centinaia e centinaia di litri di greggio, alle infinite sfiammate al centro olivigiano che continuano attualmente. Leni dice che è normale, sarà anche normale, ma ditelo agli abitanti di Vigiano che periodicamente assistono a queste sfiammate con tutta l'emissione di odori, che corrispondono a sostanze nocive ed inquiranti. Quindi noi penso che veramente quello che potevamo fare, iniziative, denunce, conferenze, incontri in regione, incontri con leni, siamo stati in sopralluogo con i dirigenti del VUF Italia anche nel centro Oli per cercare di capire quali potevano essere le mitigazioni possibili. Ma nonostante tutto questo è chiaro che la sproporzione delle forze in campo è tale, gli interessi economici in gioco sono enormi, per cui la nostra opposizione forse è servita a contenere qualche cosa, ma purtroppo non a vincere la battaglia. E i dati di questi giorni danno conto di come l'Eni alla fine, nonostante tutte le rassicurazioni che ha sempre dato, poi tutta questa attenzione nei confronti del territorio non l'ha avuta, non lo diciamo noi, lo dicono gli atti giudiziari. E lei ha questa sensazione, quella che poi è stata percepita anche da noi, dai media, dai cittadini, e come se Eni non tenesse in grande considerazione quella che è la tutela della salute e dell'ambiente della regione basilicata e del luogo dove appunto opera attraverso l'attività estrattiva che è la Val d'Agri? Gliel'ho appena detto, insomma, non lo dico io, ma ripeto, lo dicono gli atti giudiziari. Qua stiamo parlando di una imputazione di... Lavorare con tanta superficialità, fino ad arrivare al reato di... Disastro ambientale. Disastro ambientale. Stiamo parlando di un'imputazione per disastro ambientale e non è l'unica, non ci dimentichiamo che l'Eni ha avuto una condanna dal Tribunale di Potenza recente per traffico illecito di rifiuti, perché è stato accertato che c'era una contraffazione dei codici di rifiuti che venivano smaltiti quindi in maniera difforme alla normativa lì a Tecnoparco. Una condanna per, direi, sei, cinque o sei dirigenti Eni e la regione basilicata, insomma, alcuni funzionari che avrebbero dovuto vigilare. Quindi una disattenzione continua, addirittura c'è un altro procedimento penale, insomma, una costola poi del procedimento per una violazione degli obblighi di sicurezza all'interno del COVA, per violazione, insomma, delle normative appunto nei confronti poi della tutela degli stessi dipendenti del COVA. Quindi, beh, tutto questo ci fa desumere che sicuramente tutta questa attenzione nei confronti del territorio e degli abitanti del nostro territorio non ci sia stata. Oppure si potrebbe anche ipotizzare il fatto che Eni si sentisse coperta in qualche modo, perché arrivare a modificare i codici CER per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, arrivare poi a disinteressarsi di quella che è la questione sicurezza all'interno dell'impianto potrebbe significare essere certi comunque di poter farla franca da questo punto di vista? La domanda è delicata. Comunque, ecco, a questo rispondo sempre citando le carte. Come dicevo prima, la condanna per il traffico illecito di rifiuti non era solo per i dirigenti Eni, ma era anche per funzionari della pubblica amministrazione che avrebbero delle varie uffici che avrebbero dovuto vigilare. Quindi crede che ci siano delle condizioni tra Eni e i funzionari della regione Basilicata oppure gli enti chiamati a tutelare? Guardi, quando l'Eni si insedia nei territori, non è solo l'occupazione di uno spazio, non è una semplice attività. L'attività di estrazione di idrocarburi, tutto quello che è legato all'energia, è un'attività che ha delle implicazioni politiche, economiche così ampie. Quando si muove l'Eni si muovono i servizi, ci sono implicazioni, rapporti ovviamente istituzionali a tutti i livelli, ma questa è la normalità, insomma. Quindi si crea un tessuto di rapporti, di relazioni che è normale, sì, ma non dovrebbe sfociare in altro. Però ecco, su questo poi, insomma, è la magistratura che sta valutando. Però è importante capire come l'attività petrolifera sia un'attività strategica e come attività strategica abbia anche questo tipo di implicazioni. Anche perché c'è la controparte che è quella che attiene all'eroe, al tino del petrolio, di cui la Basilicata, insomma, usufruisce da tempo, da quando Eni ha cominciato a estrarre il petrolio. C'è stata disattenzione anche all'epoca, perché noi sappiamo che per quanto attiene invece l'estrazione del gas, di cui Eni ha comunque lavorato anche in questo senso la Basilicata, è come se non ne sapesse assolutamente nulla anche di quest'altra attività. Tant'è che poi anche tutti gli accordi sono stati rivisti, c'è stato un nuovo tavolo, e come se si fossero i partiti dal punto di partenza. Da parte della regione ci si è troppo fidati di questa società, di questa multinazionale, ci si è lasciati un po' colonizzare da questa grande realtà che in Basilicata arrivava e in un momento in cui, insomma, anche le condizioni dal punto di vista economico e sociale erano quelle che erano. Guardi, come dicevo prima, l'Eni, come si dice adesso, è un big player, no? Ricordo bene questo sociologo che girava a seguito di Eni, Aldo Bonomi, che si occupava appunto di sostenibilità, è stato presente in diversi convegni, e lui parlava dell'Eni come big player, della Basilicata e della sua realtà dei paesi come dei comuni polvere. Ecco, questa immagine che io ho sempre trovato molto offensiva e ho avuto anche occasione di poi comunicarlo ai vertici di Eni, di sostenibilità, però ben riassume un po' le forze in gioco. Il big player a livello internazionale è in comuni polveri. C'è una realtà economica debole, una realtà sociale debole, un tessuto economico-sociale debole, che non è poi solo anche del Comune, ma purtroppo è anche della Regione. Tant'è che adesso, purtroppo, siamo diventati un po' dipendenti dalle royalties, che dovevano servire prevalentemente per attività di compensazioni ambientali e per individuare attività sostenibili che poi potessero garantire il futuro economico di questa Regione al di là delle attività estrative, poi vengono usate invece per la gestione ordinaria di attività fondamentali. della Regione. E questo pone un grave problema a cui adesso bisogna ovviare per non trovarci poi a petrolio esaurito in gravissima difficoltà. E come se non bastasse, la Basilicata si è fatta carico anche di un altro centro estrattivo, che è quello della Total, che insiste nella Valle del Sauro, nel comune di Corletto-Perticara. E anche lì immediatamente sono sorte delle criticità, dei problemi rispetto ai quali la Regione ha dovuto far fronte. Anche in questo caso ci sono stati episodi dell'inalzamento della fiamma in torcia, con tutte le conseguenze che noi sappiamo bene dal punto di vista ambientale o d'origine, con problemi anche di percezione della sicurezza che è venuto a mancare all'interno di questo Paese, in cui gli avvistamenti di questi episodi sono stati anche frequenti. Sì, sì, infatti abbiamo parlato di Eni, ma non voglio demonizzare Eni, non è che la Total si stia comportando in maniera intanto diversa. Anche perché noi ci troviamo di fronte, mi scusi se la interrompo, ad un centro estrattivo di ultima generazione, che è stato realizzato ed inaugurato da pochissimo e comunque molto differente anche da quello che insiste nella Val d'Agri. Però allo stesso modo si stanno verificando le stesse criticità, le stesse condizioni di mancata sicurezza per quanto attiene il funzionamento stesso di questo impianto. Certo, sì sì, dicevo, abbiamo parlato di Eni, ma appunto non è da meno. Ma io insisto, è l'attività petrolifera in sé che ha un impatto ambientale che non è sopprimibile, può essere contenuto, ma non è sopprimibile. È un'attività inquinante dalle fasi di ricerca, addirittura dall'inizio, all'attività poi di perforazione dei pozzi, di veicolazione del greggio, della raffinazione. Sono tutte fasi gravemente impattanti. E non dimentichiamoci che non a caso, appunto, oltre le sfiammate di recente, quest'anno, non molto dopo l'avvio a pieno regime del centro Oli, c'è stata prima una multa notificata dalla regione Basilicata alla totale di 30 mila euro e poi addirittura la sospensione delle attività, proprio perché c'erano stati dei rilievi dell'ARPAB e che avevano visto sforamenti dei limiti di polveri sottili e altre sostanze inquinanti, che ha causato appunto la sospensione di verifiche conseguenti. Certo, no, questo lo sappiamo. Molti si sono lamentati del fatto, ma le stesse amministrazioni comunali dei centri della concessione Gorgoglione si sono lamentati perché hanno ritenuto anche questa multa non soddisfacente, anche se il Dipartimento Ambiente della regione Basilicata ha risposto dicendo che si sono rifatti comunque a delle indicazioni di legge e che non si poteva andare oltre questo genere di sanzione, non si poteva chiedere altro. Però volevo chiederle questo. Crede che ARPAB sia realmente in grado di vigilare su queste due realtà così imponenti, allo stesso modo così preoccupanti, proprio per la loro struttura, per il modo in cui funzionano, anche per quello che hanno dimostrato di poter provocare, sia a livello ambientale, sia a livello di sicurezza per la salute delle comunità che esistono nei luoghi dove sono presenti questi due centri estrattivi. Stiamo discutendo di questo punto, in particolare praticamente dall'inizio delle attività. La capacità dell'ARPAB di monitorare e garantire i cittadini rispetto all'attività dei centri oli. Se ne sta discutendo, sono saltate teste di direttori generali dell'ARPAB, insomma, ripetutamente, non è un caso, e si sono fatti tanti passi in questo campo. Se devo dare un giudizio storico, insomma, nell'insieme, ecco, devo dire che personalmente ne io, ma non possiamo sentirci veramente garantiti dalla capacità di controllo dell'ARPAB. Io spero, alcune volte effettivamente, insomma, voglio dire, dei controlli hanno dato degli esiti anche, insomma, importanti. Però nel complesso siamo ancora lontani da avere un'attività di sorveglianza, di vigilanza che possa veramente garantirci. Tant'è che, Eni, quasi per sbeffeggiare la regione Basilicata, si è creato un centro di monitoraggio tutto suo, che si chiama AGEA, che è stato inaugurato da poco. Noi abbiamo anche delle immagini dell'inaugurazione di questo centro di monitoraggio. E' molto ben strutturato, equipaggiato, con personale tecnico al lavoro. E' come se Eni, insomma, in questo modo dicesse ai cittadini, guardate che noi ci controlliamo, quindi potete stare sicuri, e che addirittura possiamo anche essere superiori a quelli che sono le capacità di controllo di ARPA, dell'Agenzia per l'Ambiente regionale. C'è un peccato originale, insomma, un piccolo difetto alla base, cioè che controllore e controllato non dovrebbero coincidere, insomma, questa è la regola generale, buona norma. Però potrebbe essere questa la risposta immediata a quelli che potrebbero essere i rilievi presentati da ARPAB. Immediatamente noi guardiamo, è veramente una struttura ben strutturata. Sicuramente saranno ben attrezzati, non c'è dubbio. Però rimane il problema di fondo, che è quello che le dicevo prima. Quindi lei dice di non tener conto di quelli che sono i dati che vengono elaborati in questo centro. Non voglio dire che non bisogna tenerne conto, però bisogna dire che vanno comparati, analizzati, insomma, ben valutati. Non possiamo prenderli per oro colato. Certo, ma io dico dall'altra parte, dalla parte dell'ARPAB, ci sono allo stesso modo? O rimaniamo solamente a quelli che sono i rilievi di Eni, di questo CEA? No, no, ci sono. Ci mancherebbe, certo che ci sono. Perché addirittura loro, e alcune cartine lo dimostrano, fanno vedere anche i punti di tutti i piezometri che sono stati installati, i punti di prelievo. Sono di gran lunga più numerosi di quelli poi che sono stati invece impiantati da ARPAB. Quindi diciamo che anche in questo caso è più forte. Sì, però, insomma, ripeto, poi devono essere sempre validati, vagliati. Questo vuol dire che ARPAB va potenziata? Sì. A questo punto sì. Anche perché è stata la stessa agenzia per l'ambiente, è stato lo stesso attuale assessore all'ambiente e all'energia ad aver ammesso che comunque l'agenzia, anche dal punto di vista dei laboratori, del personale, delle risorse umane era molto depotenziata e che andava rafforzata. Rafforzata, quindi è una missione dello stesso assessore. Tenuto conto del fatto che comunque, ce lo dicevamo prima, in Basilicata insistono due centri strattivi. Io però vorrei portare a questo punto, insomma, il discorso su quella che è la nostra preoccupazione in questo momento principale. Da una parte sarà importante avere le massime garanzie, però il problema vero per noi adesso è immaginare da subito un percorso di uscita dal fossile. Anche perché è quello che ci chiede il Governo centrale. Abbiamo addirittura un ministero che si occupa di questo, che è il Ministero per la Transizione Energetica, guidato dal Ministro Cingolani. Le indicazioni sono queste. Però Eni ancora non si è espressa in tal senso. Non si deve esprimere l'Eni. In realtà dovrebbe essere la politica in questo momento a dare indicazioni chiare. Noi speravamo molto nel PITESAI, questo piano delle attività estrative, o meglio, il piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, che doveva, piano previsto per legge, che secondo la legge stessa doveva individuare le aree idonee, le aree non idonee all'attività petrolifera e anche alla prosecuzione delle attività petrolifere, cosa che ovviamente in Basilicata ci riguarda in primis. Ebbene, però, questo piano non ha dato dei termini certi, perché le concessioni, insomma, anche se verranno appunto approvate così come sono richieste, saranno, sono del 2028 per la Valdaglia e del 2029 per Tempa Rossa. Allora, noi chiediamo che a questo punto si metta veramente un punto definitivo e che da oggi si comincia a pensare al dopo, al dopo petrolio. Perché il PITESAI non è chiaro su questo, individua poi un meccanismo per un eventuale rinnovo delle concessioni, un meccanismo basato su una valutazione socio-economica, oltre che ambientale, delle condizioni in base a cui poi poter decidere. Ecco, noi riteniamo che questa cosa non possa essere presa in considerazione. Perché? Perché il mondo, non solo appunto il governo nazionale, usciamo adesso dalla COP26 di Glasgow. La COP26 è la conferenza delle Nazioni Unite per i cambiamenti climatici, la 26esima questa di Glasgow, ecco, COP26. E nella COP si è dato l'ennesima indicazione chiara, decisa, senza dubbi, che è necessario rimanere al di sotto di un grado, dell'inalzamento di un grado e mezzo di temperatura rispetto all'era preindustriale per evitare gli sconquassi a cui noi già stiamo assistendo oggi. Sconquassi, cioè, siamo veramente insomma davanti a uno scenario... Però anche lì si è parato di carbonizzazione e ci sono stati degli interessi forti come per esempio quelli dell'India. Sì, dell'India, certo. Che si vanno a scontrare con la questione lavoro che anche in Basilicata è molto attenzionata. È molto attenzionata, ma anche questa molto sopravvalutata. Io proprio oggi, per avere dei dati aggiornati, ho verificato sul sito della Regione Basilicata quanti sono gli addetti al centro olio della Valdac. Stiamo parlando di 80 persone. Allora, non è possibile pensare a una riconversione, no? Anche con l'Indotto, siamo l'Indotto, ecco, per essere sicuri, per avere dati. Stiamo parlando di 164 persone, no? Ci sono delle vertenze in corso. Ci sono delle vertenze in corso. Allora, non stiamo parlando di migliaia di persone. della stessa portata, quindi? E tra l'altro, questo è il momento, perché c'è il PNRR in gioco, con le declinazioni regionali, quindi c'è anche la possibilità, veramente, di avviare un percorso di trasformazione. Quale potrebbe essere la svolta, secondo lei, l'idrogeno, non lo so, quale genere di... La svolta energetica in generale, in Basilicata. Guarda, su due piedi ora così non voglio esprimere... Il nucleare, si fa... Il nucleare no. Si è ritornato a parlare... Il nucleare no? Il nucleare no, per l'amor del cielo, perché, allora, noi dobbiamo agire, questa transizione ecologica deve essere breve, cioè non possiamo aspettare i tempi del nucleare. Il nucleare, anche nella migliore delle ipotesi, anche nella migliore... Cioè che la scienza riesca a individuare le soluzioni che ancora adesso non si vedono, perché adesso il nucleare verde, il nucleare pulito, non esiste. Allora, potremmo averlo fra vent'anni, ma noi dobbiamo agire oggi, non possiamo aspettare vent'anni il nucleare. Quindi per ora del nucleare... Lo accantoniamo. Lo accantoniamo. Anche perché, per quanto attiene il nucleare, abbiamo ancora i problemi di smaltimento delle scorie... E questo la dice Lunga. ...de vecchi siti di smizio. Esattamente, esattamente. Quindi andarci a caricare di altro, insomma, non sarebbe opportuno. Però, dicevo, è importante adesso che la Regione individui un percorso di uscita e di un percorso, no, di crescita, insomma, comunque economico, insomma, per dare un futuro di sostenibilità reale a questi territori. Ed è, dicevo, il momento è questo perché ci sono anche i fondi del PNRR. E allora, quello che dico io, no? Io ho questa immagine, la transizione. Allora, penso agli emigranti, agli emigrati, ai nostri emigrati dell'Ottocento, del Novecento, no? Su queste barche che li portavano in America. Allora, c'era una distinzione. Gli emigrati di Prua e gli emigrati di Poppa. Gli emigrati di Poppa... E' un'immagine... Transizione. Transizione è un passaggio, no? Da una situazione nota a una non nota. Allora, gli emigranti di Poppa erano quelli che guardavano al passato ed erano pieni della nostalgia, la paura di lasciare le terre e le situazioni conosciute. Gli emigranti di Prua, invece, erano quelli che guardavano al futuro, no? Con fiducia e con positività. Allora, questo vale a tutti i livelli, a livello del governo centrale, ma a livello anche dei nostri governanti. Sappiamo ora guardare al futuro o dobbiamo rimanere agganciati ad un passato, perché ormai il petrolio, i fossili sono il passato. Adesso abbiamo la possibilità di guardare al futuro, ma bisogna saper guardare con una visione, con un coraggio, con un coraggio che nasce dalla necessità di abbandonare una situazione pregressa e di abbracciare un percorso nuovo che non è completamente delineato, va costruito, va per tutta l'umanità e questa è la sfida di tutta l'umanità e noi in questa regione potremmo essere pionieri anche perché, perché, anche la COP26 di cui ho parlato prima, conclude così, nel riconoscimento della necessità della transizione ecologica, contemporaneamente adesso si sta dando valore adeguato ai sistemi naturali, a preservare i sistemi naturali, perché sono fondamentali anche per la capacità di resilienza rispetto ai cambiamenti climatici. Allora, la nostra regione ha una situazione attuale che comunque si fonda su, insomma, dove il petrolio ha un grosso peso, ha però, d'altra parte, degli ambienti naturali che hanno ancora delle potenzialità enormi, una biodiversità incredibile. Allora, noi dobbiamo essere in questo momento capaci di costruire il futuro ed è, ripeto, la sfida dell'umanità. Come associazione ambientalista pensate di riuscire a dare il vostro apporto ad un ipotetico tavolo nell'ambito del quale si possa studiare una strategia di uscita dall'energia, dalle fonti fossili verso nuove prospettive, verso questo futuro al quale lei ha fatto riferimento? Assolutamente sì. Noi come associazione, poi il nostro ruolo, sentiamo di avere sempre dato questo contributo. Chiederemo a breve anche un incontro con la regione Basilicata su appunto quello che stanno mettendo in campo per i progetti da inquadrare nell'ambito del PNRR e sperando che appunto ci aprino le stanze e accettino questo contributo, ma noi volentieri ci prestiamo. Un'ultima sollecitazione, grazie anche all'attivismo delle associazioni ambientaliste, poi in Basilicata ce ne sono veramente numerose, penso anche a Cova Contro, a Tutelava il Basento, all'Aiea, agli esposti a Mianto, addirittura loro hanno accesi riflettori adesso, abbiamo parlato prima dello smaltimento dei reflui, dell'attività estrattiva verso Tecnoparco, di uno sversamento da parte invece di Tecnoparco nel Basento. Loro si sono attrezzati attraverso laboratori privati e fondi che sono riusciti ad ottenere grazie a delle donazioni, quindi si sono affidati a centri analisi per valutare la qualità delle acque del Basento e sono stati riscontrati i valori, ecco qui vediamo che sono sopra la soglia di legge per numerosissimi inquinanti, molti dei quali si rifanno agli idrocarburi e che farebbero pensare proprio ad uno sversamento diretto delle acque di Tecnoparco, dei reflui di Tecnoparco nel Basento, Basento che in alcuni punti, proprio a ridosso dello scarico di questo sito, cambia totalmente colore. Di recente il procuratore della Repubblica del Tribunale di Potenza, Curcio, addirittura ha anche detto che loro non ce la fanno a monitorare tutte le questioni che vengono denunciate perché hanno una dozzina di carabinieri del Noe a disposizione. Crede che questo sia ancora maggiormente penalizzante per la Basilicata e che ci dovremmo ritrovare a un certo punto totalmente inquinati? Perché noi sappiamo che il fiume Basento è un fiume piuttosto importante per la regione. Il problema c'è, l'abbiamo detto prima, noi speriamo che anche l'ARPAB riesca a dotarsi di maggiori strutture personali. Tra l'altro anche la cosa emersa nel processo di cui avete dato già notizia nel servizio, che pare che ci siano ancora delle sorgenti inquinanti attive adesso. No, lì c'è stato un chiarimento, sia Eni ha smentito, sia la regione poi ha chiarito, anche da parte dell'assessore all'ambiente Rosa, praticamente questo documento fa riferimento a un surnatante. Praticamente non c'è una contaminazione attiva, ma Eni non è riuscita ancora, nonostante sia trascorso un bel po' di tempo, a recuperare tutto il petrolio che è finito a valle. Quindi c'è un 15% di petrolio ancora che insiste e che non permette alla regione Basilicata di procedere alla bonifica soprattutto delle acque della rete idrica lì presente. E questa è una rilevazione che è stata fatta da Arpab e Ispra, perché noi sappiamo bene che comunque c'è stato un accordo da parte di Arpab con Ispra proprio per potenziare la vigilanza ambientale in Val d'Agri, perché insomma aveva un po' fallito fino a qualche tempo fa, tant'è che ci ritroviamo con dei processi giudiziali che vanno avanti per disastro ambientale, che è un reato piuttosto preoccupante. E quindi Eni dovrebbe accelerare oltre che ad impegnarsi nel ripulire totalmente la valle dove è stata inquinata, dove c'è stato lo sversamento di greggio. E c'è un 15% che non è stato ancora recuperato. Anche perché quel documento aveva destato molta preoccupazione, perché è come se si parlasse di un'altra fonte attiva di inquinamento in quell'area. Sia Eni ha smentito, sia la Regione poi ha chiarito. Speriamo che sia così. Speriamo che sia così. Noi siamo in chiusura un appello da parte del WWF, non so, anche ad un fronte comune con le altre associazioni, affinché la parola anche da parte dell'associazionismo sia una parola più forte, più incisiva rispetto a quelli che sono i big player, rispetto a quella che è anche l'istituzione regionale, che comunque cammina con le proprie gambe, che è condizionata anche dal pensiero politico. Un appello, sì, ma noi già collaboriamo con molte associazioni grandi e piccole, insomma si siamo trovati spesso insieme negli esposti che abbiamo fatto. In quest'ultimo comunicato, anche sul PITESAI, l'abbiamo fatto insieme le Gambiente Greenpeace, quindi c'è già spesso una rete che si deve riuscire a mettere su. Sì, insomma, e che attiviamo periodicamente. L'appello grosso però ai nostri governanti, come dicevo prima, siate coraggiosi, c'è un momento in cui ci vuole veramente coraggio, ci vuole una capacità però di visione e veramente di approcciarsi al nuovo, e le scelte che saranno fatte adesso saranno fondamentali, veramente non solo per le nostre vite, ma anche per quelle delle generazioni che verranno dopo. Perché un piano di transizione energetica fatto bene può prevedere occupazione e anche compensare quella parte di royalty che poi verrebbero meno, una volta in cui non si andrà più ad estrarre. Deve fare questo, deve fare questo, deve pensare, deve impostare appunto dei processi di sviluppo che possono garantire questo. Noi abbiamo le persone adatte per, o è necessario, non lo so, avvalerci anche di esperti, semmai, di consulenti, che ci possano dare una mano in questi processi. Perché di solito chi fa politica non è detto che sia un grande pensatore oppure un esperto, oppure un tecnico che possa dare delle indicazioni giuste. I politici dovrebbero essere quelli che coordinano, trovano le competenze, insomma non è richiesto la competenza. Quello che danno l'indirizzo. Quello che danno l'indirizzo. Competenze, sicuramente sono delle competenze in regione, ma questo non toglie, soprattutto in un momento così sfidante, che siano necessarie anche competenze esterne. Per quello che può essere il nostro contributo, ripeto, noi ora chiederemo ufficialmente un incontro e cercheremo di dare il nostro apporto. E spero che la regione si apra a questo tipo di contributi nostro e delle altre associazioni, con cui magari proveremo a rifare tavolo comune proprio in questa direzione. Bene, grazie mille dottora Gressi, grazie per il suo contributo, soprattutto grazie per quello che è il vostro impegno a tutela dell'ambiente qui in Basilicata, ma lo fate anche in tutto il paese. E grazie ai nostri telespettatori per averci seguito ad un prossimo appuntamento con Caffè di Traverso. Grazie ai nostri telespettatori per averci seguito